Non c'è altro modo. Allora, questa canzone si chiama... Perché tutte queste donne sono vere, anche loro. Infatti, come potete vedere, ci sono proprio le immagini. Questa è Amina, è veramente Amina. Questa è la bambina che chiede le lemosina. Questa è Dorina, la bimba del circo. Insomma, questa è Abby che si è fatta esplodere, la foto vera presa sul Corriere della Sera. Questa è Apollonia, vabbè, insomma. Questa è Irina che lascia la Lussia per arrivare in Italia, a Milano, era in una metropolitana, insieme ad un burattino e chiedeva le lemosina. Quindi forse era arrivata in Italia pensando a chissà quale futuro. Ecco, tutte queste donne probabilmente non hanno delle storie eccezionali da raccontare. Le abbiamo create noi e abbiamo cercato di dare voce anche a questa bambina. Irina arriva la mattina con un cappotto troppo grande, ci tiene dentro la sua storia ed il talento irriverente di un'artista di strada, sfrontata ed innocente. Da una tasca sotto il cuore, tira i fili della vita, acrobatica e precaria del suo burattino, le emozioni imprigionate Nell'atteggiarsi lieve delle labbra, nello stupore fisso dei suoi occhi ed il congiungersi profano delle mani. Eccolo qui l'Occidente, feroce e splendente. Eccolo qui l'Occidente, feroce e splendente. Eccolo qui l'Occidente. La valente guarda appena e si allontana nel tempo evaporato di una metropolitana dove annegano le stelle arrivate con Irina da lontano e ogni giorno c'è un racconto da inventare una vita da proteggere e dimenticare dentro il gesto meccanico disarmonico e blasfemo e l'inchino rassegnato del suo burattino. Eccolo qui l'Occidente, feroce e splendente. Eccolo il tempo, inafferrabile e lento nel cuore di ferro di una stazione. Eccolo qui l'Occidente, feroce e splendente. Eccolo qui l'Occidente. L'Occidente. Poi faccio proprio un pezzettino di Apollonia piccolo, piccolo, ma piccolissimo. Stanotte leggo a una corda la luna e me la porto dietro dove non arriva la luce. Mi piace l'idea, mi piace l'idea che dal buio profondo prenda forma la vita. Stanotte sciolgo invisibili fili per liberare farfalle da prigioni di seita. Mi piace l'idea, mi piace l'idea che voleranno nel mondo a portare bellezza. Io vedo cose che gli altri non vedono solo perché non sanno più togliere il velo. Io so le cose che gli altri non sanno perché alla verità preferiscono l'inganno. Stano te cammino sulle onde del mare perché è con i pesci che voglio parlare. Mi piace l'idea, mi piace l'idea Che l'amore si sponda ad un solo richiamo Io sento cose che gli altri non dicono Perché hanno perso le parole e non le trovano Io so le cose che gli altri non sanno Perché alla verità preferiscono l'inganno Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut